L'MBA di Bologna Business School in Formula Serale è un programma che prevede una parte in aula con due incontri a settimana online o offline con flessibilità e possibilità di decisione da parte dei partecipanti e una parte non in aula dove ogni partecipante sceglie un corso elective da aggiungere secondo le sue esigenze, secondo i suoi interessi. È un programma molto ricco che riesce a toccare gli argomenti classici di un MBA e aggiunge anche una serie di seminari che toccano materie come la sostenibilità, il business planning, l'intelligenza artificiale, la cassetta degli attrezzi del manager che deve gestire da posizione di vertice. Oltre a ciò offre una visione d'insieme, una visione dall'alto della gestione con la possibilità di confrontarsi con manager che vengono a parlare della propria esperienza e del proprio modo di gestire le aziende. I corsi fondamentali di MBA serale sono tenuti da coppie di docenti, un professore universitario e un consulente o manager in modo da avere persone esperte e capaci di complementarsi e dare un prodotto il più possibile pragmatico e capace di entrare nel problem solving della gestione d'azienda. Un'ultima caratteristica che qualifica MBA serale è la capacità di creare network. In aula date le due sessioni per settimana che creano un team tra i partecipanti, oltre al network che la scuola offre grazie all'associazione degli ex studenti che sono parte integrante del sistema di relazioni e anche del sistema di competenze che la scuola mette a disposizione dei suoi studenti. MBA serale di Bologna Business School è il programma adatto per chi vuole fare un salto nella propria carriera mantenendo buona compatibilità con i propri impegni professionali e personali.